Erano destinati a essere venduti durante le prossime festività natalizie, 560 kg di hashish che i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno trovato a Castelvolturno in provincia di Caserta. Le indagini hanno portato i militari a effettuare un blitz in una villetta della zona. In manette sono finite due donne incensurate, apparentemente insospettabili, una madre e una figlia di 65 e 49 anni. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato trovato dopo diverse ore di ricerche. La droga, suddivisa in panetti, nella vendita al dettaglio, avrebbe fruttato un profitto pari a non meno di 3 milioni di euro. La droga era nascosta all'interno di bustoni di plastica con chiusura lampo, ma questo non ha evitato che la casa fosse pervasa dal forte odore. Le due donne, originarie di Napoli ma domiciliate nella provincia casertana, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria nel carcere di Pozzuoli. La droga, suddivisa in panetti.